ciao ragazzi bentornati su hard rock crypto in questo video parleremo della narrativa più devastante che sta colpendo il mondo cripto in questo momento eigenlayer sta letteralmente esplodendo parleremo di cosa sta succedendo da ieri sera sostanzialmente ma anche del lancio di dimension che avverrà questo pomeriggio su tanti exchange ma non binance stranamente comunque un protocollo molto molto importante e la narrativa generale dello staking per avere airdrop che sono ormai garantiti quindi eigenlayer parleremo di dimension e inoltre parleremo delle ido dell'ido season che si sta preparando ragazzi quindi come sempre ragazzi se apprezzate questi contenuti distruggete il tasto like iscrivetevi al canale che è fondamentale per non perdere nessuno dei nostri video e attivate la campanellina qua sotto in descrizione troverete i timestamp per saltare la parte di video che vi interessa di più e un sacco di altri link interessanti incluso i nostri social come x quindi ragazzi nel nella live di ieri stavo parlando di eigenlayer ragazzi e su eigenlayer c'erano 2,19 billion in questo momento devastante su eigenlayer se vado su defi lama vedete 3,67 è entrato 1,5 billion praticamente in meno di 24 ore da ieri sera hanno aperto di nuovo i rubinetti non so come dire hanno permesso di poter fare depositi di ethereum un miliardo e mezzo di ethereum è caduto su questo protocollo guardate qua più 69 più 70 per cento di tvl in un giorno devastante veramente e questo fortifica ancora di più la mia convinzione nella narrativa dello staking per ottenere airdrop quindi eigenlayer ragazzi potete depositare qui degli ethereum lo dico già ragazzi è un gioco per balene assolutamente io ancora non ho depositato iter da quando hanno aperto perché non volevo essere distrutto dalle gas fee di ethereum ma sostanzialmente dovete acquistare degli ethereum metterli in staking su un protocollo di staking liquido come l'aido che è il più grosso quello che ha più tvl tra l'altro su eigenlayer 546 milioni poi abbiamo swell e molto interessante adesso ve lo dico io personalmente ho utilizzato swell quando li ho messi l'altra volta poi abbiamo questi nell'ordine stader menthol rocket pool quelli di binance eccetera quindi swell c'è la campagna legata alle perle eccetera su swell ci sarà un altro airdrop legato swell quindi qua potete farmarmi due al prezzo di uno io per ora ho messo solo un ethereum legato aswell cercherò anzi sicuramente metterò qualcos'altro adesso che hanno riaperto perché non ero riuscito più a mettere degli iter stavo anche farmando manta eccetera quindi ragazzi purtroppo i soldi non sono illimitati quindi questa situazione sicuramente il token di eigenlayer sarà molto rilevante anche perché eigenlayer non fa solamente king ma fa anche la parte data availability quella che ha reso popolare celestia e ci sono già dei protocolli che utilizzeranno eigenlayer e sono già arrivati degli airdrop legati ad diagonlayer come ad esempio altlayer quindi questo è l'effetto lo snowball effect l'effetto palla di neve che di cui ha parlato rick l'altro giorno quindi metti degli ethereum qua ottieni un airdrop arriverà un airdrop qui naturalmente se lo fai tramite swell avrai anche swell hai ottenuto grazie a questo staking se l'hai fatto tanto tempo fa alt lo metti in staking e avrai molto probabilmente tutti gli airdrop che utilizzeranno altlayer come rollup quindi succederà la stessa cosa con dimension quest'oggi ma andiamo prima a vedere cosa si può fare su eigenlayer con un tweet del buon alex ragazzi quindi ieri ha aperto alle 9 di sera ore italiane vedete che ora sono ragazzi le 10 del mattino quindi in 13 ore quelle quelle che sono un miliardo e mezzo di ethereum messi su eigenlayer devastante quindi non spicciatevi a depositare dovete massimizzare dovete concentrare la liquidità dove conviene farlo quindi i protocolli più grossi in questo momento sono renzo protocoll vector reserve e tutti questi qua eswell in ogni caso dovete valutare i rischi fare le vostre ricerche e capire che che tipo di promozioni ci sono in corso scadono molto presto è già il 6 le vedete il doppio dei punti fino al 10 febbraio per interfai che le vedete tranquillamente ragazzi questo è il tweet mettete in pausa il video e tranquillamente andate a valutare quali sono le opportunità i link li prendete dagli account ufficiali vi interessa interfai cliccate su interfai ragazzi non fatevi fregare da situazioni di dei vari scammer che ci sono su x quindi cliccate sui link ufficiali ragazzi mi raccomando quindi eigenlayer sicuramente molto interessante purtroppo appunto miliardate di ethereum messi in staking sicuramente se avete 50 100 500 mille dollari eccetera secondo me non è così conveniente andare a farmare questo airdrop magari riuscite avere più capital efficiency quindi essere più efficaci da un'altra parte magari sul mondo cosmos con mille dollari si riesce a ottenere parecchio con un ethereum qua secondo me non si fa granché spero di sbagliarmi e quindi valutate voi cosa cosa fare questa è una mia idea purtroppo il gioco si fa veramente pesante e le balene vengono chiaramente remunerate di più per farvi capire il discorso della modularità e delle potenzialità che ci sono con eigenlayer vedete qui che non è solamente il discorso del restaking in questo momento appunto c'è questa partnership con arbitrum ad esempio e proprio con eigen data availability hanno proprio un altro account sfruttando orbit che è un bridge tramite alt layer si potrà praticamente brigiare e ottenere andare a fare appunto queste cose su arbitrum ieri hanno fatto un restaking con arbitrum con conex network renzo protocol vedete che questi protocolli sono tutti incrociati quindi se questa narrativa sta prendendo sempre più piede e le coin nuove le nuove coin che stanno uscendo sono sempre più allettanti perché vengono messe in staking nella speranza di prendere degli airdrop incrociati e questa narrativa sta prendendo sempre più piede e ora ne sono convintissimo io e appunto alt layer non non li ho ancora avuti li metterò in staking perché appunto punterò su questo ecosistema sicuramente e dimension la stessa cosa sicuramente ha un potenziale estremo questo è l'x ufficiale di dimension ha detto che ha fatto un tweet molto semplice dice la mainnet verrà lanciata molto presto non c'è nessun claim da fare i dim verranno allocati all'indirizzo che avete dato e su cui avete potuto verificare il claim quindi non c'è la possibilità di essere scammati e poi si potrà fare swapping mettere in staking eccetera tutto dal portale di dimension questo qua link ufficiale mi raccomando ora praticamente tutti mettono anche un tweet nel thread in cui scrivono end of tweet per non farsi fregare dagli scammer che appaiono dopo vedete qua end of tweet e poi poco dopo c'è uno scammer con il logo ufficiale tutto quanto e state molto attenti a non farvi fregare ci tengo a insistere su questo punto team appunto verrà listato su buybit alle 4 perché sono le 3 utc quindi alle 4 ora italiana listing su buybit e anche su kucoin anche su bitfinex tanti exchange quindi sarà un lancio molto importante il prezzo stimato va dai 4 ai 5 dollari circa sui mercati che permettono di fare trading ancora prima che il token esca come a evo cosa farò con i miei dimension li metterò in staking valuterò il prezzo ovviamente se pompa in maniera senza senso esagerata perché se so già che la valutazione intorno ai 5 dollari se la valutazione è eccessiva chiaramente li damperò e li comprerò più bassi ma se no la filosofia è quella di metterli in staking e continuare con questo effetto palla di neve per un po e fino a quando non verranno scaricati appunto i soldi di chi ha investito all'inizio ci si aspetta già di avere mettendo i staking dimension avail che è appunto un protocollo molto atteso di data availability un altro e warm legato a warm all quindi due airdrop attesissimi che potrebbero arrivare appunto tramite dimension quindi capite come questo meccanismo questa narrativa prende sempre più piede perché chiaramente questi creatori su x eccetera sono molto seguiti ha senso mettere in stake in queste coin soprattutto perché siamo all'inizio del market che ognuno la vede come vuole siamo in un ottimo periodo pre si può cavalcare sicuramente tutto il 2024 con questi token e poi si valuterà con valutazioni molto più alte per ora il prezzo pre lancio appunto la valutazione ci hanno preso abbastanza i mercati che ti permettono di fare trading prima su tia ci hanno preso era dato due dollari dato 230 vedete che sono tutti abbastanza vicini alt alt 0 26 è stato lanciato 0 29 manta eccetera anche giupiter quindi su dimension come ve lo stavo dicendo la valutazione è di da vada 3 a 5 miliardi completamente diluiti con un market cap iniziale che può andare dai 400 ai 700 milioni di dollari circa dai 3 ai 5 dollari quindi se andiamo oltre per quanto mi riguarda vendo almeno cercando di speculare all'inizio per poi riacquistare naturalmente qui vedremo ragazzi ma questi progetti nuovi stanno performando benissimo al lancio abbiamo visto ultimamente selestia alt layer manta zeta chain che sono partite fortissimo anche questo potrebbe esplodere subito e quindi insomma è difficile vedremo come va questo lancio questo pomeriggio verso le 4 ragazzi uno dei metodi per fare veramente un sacco di soldi in questo bull market è evidente quello delle ido e delle i go di tutto quello che volete dei lanci comprare un token prima del lancio per fare possibilmente 20 30 50 per è il miglior modo per fare soldi senza rischiare eccessivamente anche perché c'è anche l'apprezzamento del token sottostante parla anche il buon alex becker il numero uno per quanto riguarda uno dei più seguiti sicuramente nel mondo del gaming heroes of mavia è stato lanciato recentemente un airdrop devastante e di nuovo luce sul gaming un consiglio che da il buon alex che vi do anch'io e di non cercare di comprare una coin al lancio che sta pompando faccio tutto questo discorso per di tenere d'occhio le ido che sono molto importante noi abbiamo una partnership con cd5 e vi avvisiamo dei lanci del tg e di come partecipare eccetera su x sicuramente è un'opportunità in cui crediamo moltissimo al di là della partnership ma proprio perché è un'opportunità effettivamente concreta di avere dei guadagni senza senso vi dico solo una cosa alcuni dei ritorni di questa id o nell'ultimo bull market ad esempio con star atlas avevo una location ridicola da tipo 13 dollari qualcosa del genere e sono diventati 1400 quindi fate voi quello che che è giusto fare prima o poi arriveranno dei titoli pazzeschi non tutti i titoli saranno incredibili ma comunque questi non sono assolutamente consigli finanziari le ido possono andare malissimo come ogni cosa non ci sono garanzie naturalmente fate le vostre ricerche prendetevi le vostre responsabilità e come dice in francese il buon alex becker research your ass off fatevi il culo con le ricerche non so come tradurlo quindi responsabilità voi se fate un sacco di soldi con le ido e assolutamente complimenti siete dei grandissimi se li perdete è colpa vostra quindi arriviamo a un lancio questo pomeriggio attesissimo da più di un anno stanno sviluppando i mitici eroi di animalia animalia ne abbiamo parlato l'altro giorno è un trading card game già pronto verrà lanciato il token anim questo pomeriggio alle 2 utc alle 3 ora italiana questi sono i dettagli non ci sono ancora i dettagli del contratto eccetera verranno dati dopo il tge quindi 10 minuti dopo c'è un link per fare claiming e andare a vedere il vesting eccetera perché ha partecipato all'igo di cd fi potete tranquillamente cliccare su questo link e collegare metamask rabbi wallet quello che volete e andare a vedere com'è tutto quanto ma per ora non si può fare nulla fino appunto dopo il lancio dopo il tge quindi ragazzi oggi avviene il lancio su un su uniswap sostanzialmente solo su dex i checks verranno annunciati ragazzi sono comunque dei tier one dei checks di tutto rispetto verranno annunciati in futuro e la loro strategia ci sta assolutamente per portare hype a questo progetto ci sono nft c'è un marketplace c'è di tutto il gioco vedete qua sotto del gameplay è fantastico c'è una community fortissima animali ragazzi ha un seguito direi molto potente 80 mila followers trading card game nft e non vediamo l'ora di vedere come va questo lancio lo commenteremo poi dopo il tge la prossima volta andremo a vedere che che cosa ha fatto appunto questo questo lancio che appunto potrebbe avere dell'hype successivo con lancio anche sugli exchange centralizzati fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come sempre se apprezzate questi contenuti distruggete il tasto like e noi ci rivediamo al prossimo video sempre qua su hardlock crypto ciao